Ciao a tutti amici! Ciao bambini! Siamo finalmente arrivati al momento più straordinario di questa giornata piena di incanto e meraviglia! Da per avere inizio la spettacolare cerimonia di accensione del maestoso albero di Natale! Oh, sarà favoloso! Ma per chi sia veramente un inverno magico, ci vuole la musica più incantevole delle feste per scaldare i cuori di tutti noi! Grazie! Grazie a tutti! 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 ! Grazie a tutti! ! 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